Ecco le parole di Elena a Lorenzo nella casa del grande fratello Prosegue il percorso dei concorrenti nella casa del grande fratello e nelle ultime ore sta spopolando sul web il cellulare Gate In casa infatti sia Tommaso Franchi che Elena Prestes hanno chiesto a Lorenzo Spolverato se avesse usato il cellulare durante la sua trasferta in Spagna al Gran Hermano Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio questa mattina Elena, dopo giorni in cui ha ignorato Lorenzo, ha avuto finalmente un confronto con il ragazzo La modella brasiliana ha chiesto a Lorenzo se fosse andato in bagno una volta in aeroporto e poi ha continuato Senti, ma è vero che tu hai usato il cellulare? Dai, hai usato il telefono nel bagno dell'aeroporto Lorenzo non se l'aspettava ed ha replicato Il telefono? In che senso? No te lo giuro, ma perché avrei dovuto usarlo? Ma poi l'Italia sa Lollo è per pochi Lorenzo non è per tutti Comunque posso uscire anche domani Perché è stata un'esperienza bellissima quella di andare in Spagna Vedere Madrid, che bello credimi Elena ha continuato ad incalzare il giovane Spiegando le sue motivazioni secondo le quali avrebbe usato il cellulare Non lo so, magari per vedere qualcosa su voi Forse per capire cosa pensa la gente o sapere delle cose Anche perché tu sei il primo che ha detto che qui sta giocando Mi hai detto che vuoi arrivare in finale E che ci tieni tantissimo a questo percorso che per te è anche lavoro